Ciao a tutti, una terza persona può aiutare un codipendente a liberarsi dalla trappola di un narcisista? Questa è una domanda che mi è stata fatta, allora, dunque dipende da chi è questa terza persona Nelle relazioni sentimentali è possibile, però è difficile se questa terza persona è un, come dire, un pretendente un innamorato, diciamo così, o un innamorato, in questo caso, per fare un esempio, se sei innamorato di una persona che credi che stia con un narcisista, che magari ti racconta che lei sta con un narcisista tu personalmente non puoi interagire cercando di convincerla a lasciare il narcisista, assolutamente perché otterresti l'effetto contrario, anzi, tra l'altro, c'è il rischio che entri tu in una triade in cui ti coinvolgi e ti innamori sempre di più in un gioco, diciamo, al massacro nel senso che è molto facile che tu possa identificare una persona di questo genere come la mamma buona da sottrarre alle grinfie del papà cattivo e allora non otterrai nessun risultato, anzi, otterrai soltanto risultati negativi Se invece questa terza persona è un amico, diciamo così, o un'amica, o un adulto significativo che è disinteressato, diciamo così, ad avere una relazione sentimentale affettiva con la persona in oggetto, con la donna in oggetto allora può essere possibile andando piano piano a destrutturare, diciamo così cioè a convincere piano piano la sfera logico-razionale che l'altra persona è un narcisista andando semplicemente a sottolineare, non direttamente, ma indirettamente dei comportamenti che altri hanno nei confronti del loro compagno o della loro compagna in modo tale che sia lei ad arrivare piano piano a concepire, perlomeno su un piano logico-razionale successivamente a far scendere questa meditazione questa praticamente è stata di una meditazione analitica, una ristrutturazione cognitiva prima e una ristrutturazione emotiva successiva, quindi è un qualcosa che va fatto per gradi però un aiuto in quel senso lì si può dare cioè, ripeto, l'aiuto deve essere tale da iniziare a sottolineare senza parlare della sua situazione come svolgono la loro relazione e altre coppie raccontando episodi, raccontando situazioni in modo tale da fortificare la differenza cioè, per fare un esempio se tu hai la panda scassata io voglio farti capire che la tua panda è scassata non ti parlerò senza però interagire senza dirti guarda che è la panda scassata perché altrimenti tu magari ti difendi ma inizierò a parlare degli optional della Mercedes nuova è che sulla nuova Mercedes è uscito un sistema autofrenante che ti fa pure il caffè, per fare un esempio per svegliarti quando sei addormentato cioè, questo per dire entra in una situazione in cui farà un confronto prima o poi invece se una persona è innamorata può farlo uscire da un narcisista se di fatto non è innamorata se riesce in qualche modo a far innamorare l'altra persona certo se uno riesce a far innamorare ma non deve essere già innamorato lui allora può farlo uscire fuori perché è ovvio che se si disinnamora del narcisista se si innamora di un altro automaticamente si sgancia ma se tu sei già innamorato cotto è difficile che riesce a farlo innamorare perché purtroppo in amore vale questo se siamo innamorati persi non riusciamo a fare tutto il contrario quindi è ovvio che se arriva un grande Cesare che la guarda magari ha un comportamento un po' simile magari inizialmente al narcisista un comportamento perché se uno è codipendente va alla ricerca di chi la condiziona però in modo da grande Cesare magari non è un narcisista è soltanto uno un maschio alfa ecco un grande maschio alfa un grande Cesare che riesce subito a a generare delle emozioni delle tensioni allora in quel caso lì potrebbe farla farla uscire rapidamente nel giro di che ne so qualche giorno nel senso che si innamora ma viceversa non è possibile ecco queste sono le due situazioni in cui si può interagire si può intervenire in modo comportamentale per aiutare diciamo a uscire dalla trappola del narcisista bene per questo video è tutto seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale di cui ti posto i link in descrizione ciao ciao